buongiorno sono qui questa mattina per presentarvi i termosifoni su twitch tv esatto amici minchia ma quanta boh così swallerata proprio e io stamattina avevo messo il titolo della vita per si ottivo facciamo venerdì avevo messo in cerca di un tesoro che si chiama juan pierce bravo era veramente bella e me l'hanno bruciato perché sono andato in manutenzione server come si aggiunge gli amici su questo gioco io non ho parole per fortuna che abbiamo rock company veramente grazie belli però c'è anche rock company stasera magari magari si adesso vediamo allora basta corvo non ce l'ho oggi compie 17 anni io voglio scrivere qualcosa voglio scrivere rock company tot se riusciamo bene no no pier non me l'ha trovato vorrei uccidermi carca miseria allora devo aprirlo dal desktop ti è forse mi avete fan che vi dicono le cose anche bravi non cosa vi paghiamo a fare sempre alle 11 fanno le cose voglio dire a fare un telefono di là volevo farvi vedere una piccola una rete incredibile 619 stavo andando cambiando la posizione grazie era slice use quante vocali aggiunte no è stato è stato fingo di esserci di essere ok aspetta mi unisco mark no aspetta la testa accetta ok ho preso il fuoco ok sono amico di gli azzar adesso ok allora io dovrei avermi tutti tranne corvo che se mi ha mandato la richiesta la vedo qui quindi accept freehand request eccolo e adesso vi invito al party grazie giangia grazie giangia sentite intanto di sottofondo la musica di conan conan sempre che c'è stanno appena stanno lì per risolvere il caso adesso devono è stato un bel canescio un bel canescio io volevo farvi vedere una comparison ma purtroppo ho messo a caricare il telefono addirittura in un'altra volta andrei sì andrei tarkovski è già tipo la seconda o terza volta grazie mattricks vuol dire che guadagna tante termocoin per quanto ne guadagna termocoin in realtà non è stato sempre su quindi vuol dire che ci segue sempre 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 averlo aggiunto io ho scritto bene tarkovski si basta fare copia e no io scrivo sempre io prendo oggi prendo la barba per far finire ma marco che cazzo hai fatto una cagata sicuramente no il cappello dico io no quello è per ampliare ma ti stringe la testa normale ho capito ma senza barba sembri un imbecille toglie marco con i nuovi punti ma in realtà ho visto che hai ritratto il per due marco bavo marco non lo so sembri un imbecille comunque eppure sì sì almeno per oggi un po di dignità ma quando abbiamo morto quando due bagnano come ronin voyage of the mark come fan ce l'abbiamo tutti nello l'idea è vero amici ho preso il cecchino ma da supporto e dovete farlo voi allora stick together ieri mi sono trovato bene con ronin per chi non sapesse questo gioco è un misto tra valorant overwatch e rainbow six va bene pensa che prima non svevo neanche che si potevano evolvere le armi quindi le prendiamo e basta bravo ho visto che c'erano le baratte suzze alcune armi non è che conviene troppo potenziale altre assolutamente sì overwatch ma giusto per le abilità infatti in realtà le abilità ce le hanno anche su rainbow six fondamentalmente infatti sì più o meno le abilità di rainbow praticamente alla fine ne hanno una sola sono due di qua l'izzaro è già morto prendo il punto prendere il punto fa calare le vite minchia sono in due mi hanno falciato stanno andando da dietro occhio questo è morto l'ho tutta la terra uno la mia colpito questo coltello qui è una mina mi ha colpito mi vado a fuoco va ancora qui non ci ho preso non ha vita ma che stronzo mi è sguagliato io che decido di venerci in questa mappa a me mi devo sparare grazie in alto vedete le vite adesso siamo in svantaggissimo noi ho tolto il punto ma sono tutti dentro stiamo andando troppo garibaldini mi sa ma la prima si sa che ti riscaldano no io ho sbagliato proprio il personaggio ma l'altro moro corvo aspetta lo sta tirando su mi tirate su eh li è zaro stavo tirando su colgo aspetta eh ma minchia non ci ho preso il pippo l'ho buttato giù corvo riusci a tirare su marco corvo troppo tardi iniziare a dargli copertura termolò termolà ma qua si è salito sul muro oh è tipo dai no hanno tirato giù uno però è esplosa l'altra ma ce n'è arrivato un altro da dietro e mamma mia li ho buttato giù uno ma da dove? eh da lì eh non l'abbiamo più vita no siamo finiti ci hanno veramente asfaltati male un po' si si hanno rushato come le bestie al centino non faccio niente a caccare la prima è difesa e me mi trovo con i fucili d'assalto poi ormai ho preso questo non è che vado a comprare l'smg ah no ma ci sta cioè veramente in base al tuo stile di gioco qua non ce n'è una meglio una cioè si in base alla mappa ci può essere quella più utile tipo io no qua in questa mappa o meglio si ma devo avere tutti i compagni con mitrini veloci perchè lo shooting è veramente fatto bene anche avere il cecchino in un tps come questo non è debilitante te lo assicuro cioè riesci comunque a fare molte kill col cecchino però non è la sua mappa per esempio questa qui preferisco altra gente il gioco è fatto... cioè per me è fatto veramente bene è scomodo però il contro per natural è un po' scomodo vuoi cambiare tasto è che saltare sarebbe un po' allora intanto c'era uno che è andato a sinistra e quindi arriveranno da voi liezer l'ha terrato uno cazzo di là? nooo ci arrivano addosso moro eh no non ce la faccio arrivare fisicamente in tempo eh no ragazzi eh se mi arrivano qua dietro io non posso fare niente ma non arrivo non ce son più ce n'è uno anche di là se mi arrivano in faccia con i mitrini c'ho una qua marco non ha vita perchè non mi ha dato l'assist che aveva una granata addosso quanto in prefire escono? eh si se ti vedono hanno già che potresti uscire da lì ti ho tolto tutta la vita tutta la giù tutta la giù tutta la giù c'era Dima qua dietro io devo rubare un'arma ok ora un'arma decente ho ucciso entrambi questi no ho guagliato lo riprendo un millisecondo non sto fermo eh ma sarebbe ma è molto frenetico cioè io mi sto trovando da dio sotto pieno di gente vedete me è ancora peggio meno male che ci state guardando molto una che hanno tirato questa smoke e non vedevo un cazzo se non la sua sagoma guarda no gliel'ho tirata io ah bravo dietro 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 ma non vedeva neanche lui tanto qui grazie Antani grazie mille no non ha vita mai si è rifatta vita con il lifesteal vaffangulo è forte questa qui grazie Antani vivu è morto grazie Antani è morto ehm c'è il punto il prefire si anche per la terza persona eh cazzo sto andando questa è la grata 8 di vita ho sbagliato strada amici ma questo? no han tirato la minchia è andato a fuoco il filo spinato delle palle Eliezer l'hai tirato tu questo no questa no eh mi ha dato a fuoco eh mi ha dato a fuoco eh mi ha dato a fuoco no ma sei morto ahah li ho buttati giù dieci volte e continuano a tirarci giù ok li ho buttati giù eh vado sul punto l'ho preso non l'hanno più vita non l'hanno più vita ok mancano 3 eh io non ho vita eh devo ricaricarmi no merda non l'hanno più 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 adesso è in Closet Beta non si può droppare non da noi a parte che se in realtà se chiedete le chiavi in giro è la spot poca vita te Corvo due chiavi dove ti sono arrivate? no sei ripullata eh? jmail jmail perchè mi sono iscritto dal sito che male sono andato così alla Garibaldina ma siamo senza vita siamo senza vita anche noi eh devono notare così via quindi in realtà siamo noi che andavamo già che a me mi fanno cagare ma eravamo noi che non dovevamo andare perchè avevamo il punto però bisogna andare è tattica per forza devi farlo se no 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 devi farlo eh ma non mi piace così giù ma che vorrei dire ma è devi farlo perchè tu devi tenere il punto eh anche su COD c'è anche su Rainbow ma anche su Rainbow ma anche su Rainbow se tu vai cioè se stai vincendo hai il punto perchè devi andare da loro cioè abbia sbagliato noi qua senza il massimo il fiucile c'ho 6500 però noi avevamo il punto ce ne stavamo dentro loro ne hanno in due ah poi io sono andato addosso preso dalla dall'isteria e non dovevo non dovevo stare per i fatti soprattutto io che son cecchino proprio non dovevo farlo non ho capito un tanni cosa? andiamo eh occhio sono tutti qua cazzo sono già qui tutti non ho sito di vita ok si girano intorno e li ammazzano tutti ragazzi ve lo dico eh io gli vado avanti allora faccio il giro per andare su A ma poi perchè erano qua che è il punto dall'altra parte non lo so però ho girato l'angolo mi hanno tritato in due puoi prendere il punto nel dubbio se ne è uno sul punto l'ho buttato giù uno l'ho buttato giù anche io l'altro quindi preso da dietro si cazzo dietro ah son lì dentro ok mippo dietro è vero eravamo circondati ce l'avamo veramente da ogni uscita sempre mippo sempre chi è che ha lanciato quella granata? io a caso ma qualcuno l'ha colpito l'ho buttata da dai non ci ho preso ma non è vero no l'ho colpito dai che falle che falle menchia oh oh tirati e ce l'hai altre non è che ce l'hai uno solo eh lo so ma li avevo buttati giù tutti e due poi mi hanno ucciso ho ucciso a pudi ce l'hai altre nooo sto ricaricando sono usciti veramente dalle fottute pareti prima sono usciti da tutti i lati sono usciti andiamo giù perché ormai andata giù eh la tirano su la tirano su ma qui di fianco erano io pensavo fosse andata giù e basta bravi sto vivendo guardate con qui cazzo ma non si mettono sempre eh vengono a fare fanno il plotone fanno eh ma giusto cosi e beh si è stata giù e la sta tirando su qua dietro eh in realtà lo reputo molto molto migliore di Valorant ma di brutto proprio per quanto mi riguarda cioè appunto più frenetico a parte che lo shooting non è quello di Counter Strike che è lo shooting più di merda della storia dei videogiochi e la gente continua a dire i competitivi così dicono eh ma perché devi imparare il counterabile c'è la rosa ben definita fa schifo al cazzo da un casual game e poi te personalmente fa schifo al cazzo quello di Valorant è quello di Counter Strike c'è sarei anche disposto a imparare a giocarci che non mi diverte quindi non però invece questo qui è molto più casual ma questo è casual cioè io mi diverto a fare le kill o mi diverto a sparare è il time to kill di questo gioco per quanto c'è la vita sopra cioè non è COD che spari spari in testa la maggior parte delle volte sciotti e mori subito così questo qui c'è un time to kill un pochino più lungo però è breve cioè è abbastanza breve per un gioco con la vita quindi è figo io li a zero questi tasti non li voglio più sentire per favore prenditi sto braccio ci metto degli ammortizzatori sotto i tasti dopo te lo compro su Amazon però anche con la succina a te adesso mi diciamo perché anche a te succede adesso sempre a puntare il dito agli altri no lui non è mai no mai vabbè ma io ho fatto in modo di farlo sentire il meno possibile tu non hai fatto un cazzo è il problema ancora più grave no non è vero amici qua bisogna fare che mappa hai? aspetta ho visto male era factory? era... non lo so non lo vedo più adesso eh cavolo allora factory no ok l'ho preso giù allora ci sta Chuck factory ci stava un sacco anche la cecchina in realtà però l'ho appena usata quindi non so non ce l'abbiamo il medico cazzo è vero comunque bisogna sparare tra terra per fare Edson su Counter Strike chi è che ha preso Ambil? Yetzer ok lui ha un mitra molto veloce sai lo scudo puoi metterti dietro lo scudo io l'ho usato l'altra volta e occhio qua perché cioè in realtà qua sei molto utile perché se chiudi... se ti chiudi nelle entrate non possono passare loro cioè sì possono passare se ti fanno esplodere tutti i soldi di gioco prendere questo poi quindi aspetterei e poi adesso adesso aspettate adesso appena imparate anche le mappe così vedrete che divertite anche di più secondo me tanto le mappe sono tipo 4 no son 5 tipo le mappe e da un altro forse riesco a prendermi un rogue stamattina eh io mi son preso davvero bene ragazzi sto giocando un botto li ho già presi tutti praticamente i personaggi quelli che non ho preso è perché non li voglio tanto mi fanno giro pure loro e mi spawno arrivano son qua son qua dietro eh shhhh dai l'ho buttata giù per quanto dai ma che cazzo ma scusami ho otterrato uno ero lì di fianco a parte che ho iniziato a saltare ho buttato giù jack bravo corvo c'è un altro rifle tranquillo no salterra 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 corvo corvo sto prendendo il punto ho buttato giù ronin sono pieno è pieno no ti ho preso l'arma non volevo eh niente non ho le tue spalle sono sul punto sono arrivando sul punto ragazzi eh non sono granata per un attimo ma che mira di merda ah cazzo ok quello lì dietro è atterrato qua 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 mici mici faccio io ha poca vita si infatti la rusho no c'è un botto di gente sono in tre dentro guarda lì metto ha tirato su l'altra eh l'ho tirato giù però tiratemi su tiratemi su dobbiamo arrivano 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 dai qua da me sto ricaricando uno dietro arriva envy le arrivan due uno l'ho terrato ragazzi qua ah corvo mi tiri su? no sto ricaricandolo da far schifo da far schifo? da far schifo? eh ci mettono sette anni vai 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 ah non lo spawn questo si 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 non trovi se può rifregar anche la granata imp aia eh mi ha buttato giù subito porca va buona buona teniamoli il punto che non so perché ricarico ok non hanno più vinto ok si si adesso se muoiono muoiono c'è sempre Ronin qua dietro c'è un Ramonzi eh dai sbucca cazzo mi ha fregato mi tiratemi su vai ok uno l'ho ucciso si sto gioco va giocato in team si sto gioco va giocato in team perché è molto tattico anche se è molto frenetico abbiamo vinto abbiamo vinto anche se è frenetico io ci gioco anche da solo però io sono un caso eccezionale ma anche io ci gioco da solo comunque è divertente perché è comunque un team da quattro quindi anche se giochi da solo cioè riesci a organizzarti un po' con gli altri è molto intuitivo come tattiche come roba però in team naturalmente allora esprime il meglio grazie a tutti grazie a tutti questo è diventato sta diventando veramente piano piano perché Dima è quello facile da usare che era diventato il mio main ma è quello un po' più semplice e questo qua mi sto mi sto prendendo un sacco si è un po' franco si è un po' franco vado con gli laser ok magari li clacciamo un atto sai cosa non abbiamo preso il medico che qua è un peccato perché si qua è veramente un peccato arrivano già sul punto eh mi stanno già sparando maledetti loro c'è uno qua dietro la finestra no mi ha bloccato che male che male ho buttato giù capi e niente sto ricaricando di nuovo ma si è ricaricato l'abilità tra l'altro ma li abbiamo e arrivano qua appunto sono in tre loro ah no uno è è disconnesso sono atterrito i film degli spari mi ricorda World War Z eeeh può essere un pochino questo boh non mi ricordo vabbè ma li stiamo eh ma sono anche i tre poveri eh vabbè ma perché prima li abbiamo sfondati a merda e si sono messi a piangere è il team l'obiettivo amico chi se ne frega corvo andiamo a vedere che c'è qualcuno lì tiro su no c'è uno qua aia devo ricaricare e niente e io sono qua dietro eh sono anche dietro Marco eh devo ricaricare di nuovo aaaah la secondaria li sto buttando giù aiaiaiaiaiaiaiaiaiai fanno malissimo si si no lasciatemi stare ciao Maxman ci voleva prendere il punto che bello persona 5 eeeh ma persona 5 eeeh veramente stupendo è veramente però ti devi prendere una vacanza dalla tua vita per un paio di mesi veramente minchia che shottata eeeh moro eeh no mi ha shottato col pompa questo no volevo dirti eeeeh e dove era? eeeh qua sono a terra, sono a terra, sono a terra eh brudono devo non sistemare la gente che quitta eh purtroppo quello che era di pezzo eh no metti che li report ha una penalità no non c'è un cacchio adesso no mi ha sciottato subito ma dai è qua c'ho tantissima vita qua dietro eh non c'è pezzare colpito scemo al pelo porca miseria Mizzica Mizzica c'è qualcuno che mi ha sparato è rimasto l'ultimo e allora è laggiù da ste parti ho da prendere davissimi eh poverassi questi li han presi al primo razzo tanti dopo che le prendono al primo vanno via ma non capisco non c'è sempre una penalità adesso ma io c'ho 20.000 milioni potenzio al massimo qui e voilà abbastanza pompetti eh si adesso voglio fidarmi a bestia ragazzi poi non... questo è l'ultimo round se vinciamo non c'è ma non c'è la granata ma non c'è non c'è non c'è l'ultimo ma non c'è l'ultimo l'ultimo ma non c'è tira su non tira su è scomparso ragazzi l'ho disintegrato maria sono tutti qua perché l'ho fatto non posso tirare le granate con l'imp infatti basta tenere il punto dietro lì bravo mi stiamo facendo piagne poi l'ho preso dopo piangiamo noi arriva l'altro qua dai 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 pippo non ci ho preso palle però immuniteste arriva da lì eh sì c'era l'altro mi ha fatto ce ne sono tre che loro spawn questo mi stiamo merdando eh guardati questa un po' mi dispiace anche c'è l'uno che è scappato via sta andando di qua sono in due qui cazzo sono in due cazzi qui eh lì c'è il loro spawn quindi saranno anche che è anche attenzione grazie mille il cavaliero asciuto grazie mille c'è un mippo sono statato purtroppo grazie cavaliere hanno finito le vite altro amici oggi pomeriggio eh c'è samsung io voglio vedere voglio vedere era Emma quella certo voglio sono curione di cacca e non ci prendo mai mariachi avessimo avuto lo chef mariachi eh lo so no c'è anche c'era anche gente dietro sento morelli ok mi ha dato un assistino e c'è ma che vola dove sta andando quel cadavere ogni minuto che passa perdono una vita ahia mi ha sciuttato ma come ha fatto eh col pompa col pompa porca miseria buona buona allora andando a fuoco buona 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 comunque il pomeriggio presentano le cose nuove galaxy io sono curiosone voglio vedere voglio è andata molto bene anche il nuovo si in teoria si dovrevo far vedere galaxy watch e le nuove cuffiette e i nuovi galaxy note e il nuovo pieghevole 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 devo playare 7 match e vincere 3 match ho 10.000 aspetta aspetta cancel search fammi fatemi prendere un nuovo rogue io volevo prendermi c'è chi non l'ha presa marco io prenderei o lancer che è una ma tanto io ce lo leo tu ti moro prenditi tipo a no vabbè però volevo qualcosa altro uv che lei sai chi non ho più usato torc 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 metti lì di fuoco lei nooo prenderei lei voglio provare c'è la mitraglietta lei quindi lei ha una distanza molto ravvicinata perchè lei rusha poco rapido lei e mauro per adesso no per adesso chi quitta credo che non abbia penalità no e ma ancora siamo prima dell'uscita che lui è sempre utilissimo sa che è fantastico lo provo o vi in realtà riduce dimensionale ah ok ridurre la vita degli altri mi aumenta la mia è molto situazionale però lei eh beh la provo abbiamo presa per me i più utili adesso sono il medico tanto dallas il medico è sempre ma lei comunque lei comunque cioè con la pozza lì chiude aree comunque buono io nella mappa italia con ciac ho fatto tipo 37 kill al sol 35 36 non mi ricordo perchè comunque sia gli vai dietro se non ti se non hanno modi per capire che arrivi da lì li prendi da dietro e li sciogli con la sua arma poi se si girano ti fanno male cane si ti ama comunque sia a parte che ormai ti ama se si sa già tutto praticamente non è che non penso ci saranno colpi di scena nella live di samsung di oggi pomeriggio presentano half life 3 magari ma si si io qua prendere che mappa è? factory di nuovo fuck factory qualcuno può prendere il medico ma lo provo io chi è? sei quello con il rasta tiri praticamente hai un drone che si ricarica ogni tot e lo tiri su quelli per terra anche da distanza e li tiri su si a te premi q vai in automatico dal dai riprendo ciac che arma mi conviene prendere con lui? è il mamba si occhio che però è no aspetta te non piace secondo me no è il tr 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 no l'altro prova c'ha la co g c'ha l'altro c'ha la co g che in questo gioco è tosta da usare eh vabbè proviamo il mamba dai catto lasciamo perdere se potete strizzarmi le guance e fare quello che volete però tanto non avete pericolo di tirarvi la barba quindi veramente brutto io sono un ghost io voglio vengono io voglio vengono questo è il pompa questo è il nightshade anche un tifo ecco la claymore e la smock io ti consiglio di usare la claymore giusto per mettertela dietro di te in modo che non ti ganchino ok e mi raccomando corvo non fare se adesso hai pushato un po' con lui non farlo no ok perchè non ha delle armi che buttano giù veloci come gli altri c'erano delle armi un po' più riflessi cioè devi pensarsi un attimino di più alla tattica da fare ma sss mi sa che fa schifo ah ce n'è uno proprio già sul punto il gioco pesa tanto di prestazioni neanche troppo non penso ah ma è a colpo single una stronzo no il mamba non è a colpo single a me mi ha sparato che sta sparando a colpo single è possibile no no è lì lo sono arrotolato davanti ho sbagliato porca miseria è terra no dietro dietro voglio rubare la granata no mi ha preso ok l'ho tirata giù ritorno qua qualcuno mi può tirare niente eh no non posso eh ho già usato si si non è fatto bene vaia si gira vector ragazzi per farvi capire si è vero che gira vector quindi gira vector anche abbastanza bene sbagliare abbiamo controllo dei obiettivi riprendiamo il pinto torniamo il pinto no non ho fatto ho fatto a pochissima vita a pochissima vita la vita massima diminuisce degli avversari comunque il mitra suo non è male è è stra veloce eh aiuto ragazzi ok questo l'ho tirato giù bravi bravissimo ma tu sei morto subito eh si a me ha sciolto bravo lizza metro di giudizio universale a vector metro di giudizio universale stabilità è costantissima no che vedi no ho sbagliato è veramente allucinante eh mi hanno buttato giù ma vado giù veramente come il fan io vai lasciami stare che c'è qua ok dietro 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 gank ho buttato giù c'era un altro sono tutti qua una terra arrivano anche da di qua arrivano anche da dietro di nuovo non arrivano mai più non arrivano b***s cletez sono qua sono qua ragazzi eccolo qua mi tiro su eh da solo ok è andato giù praticamente ragazzi c'è un hp niente è andato io ma arriva lì a zarbona ottimo ottimo sicuramente non è andato le pipette non piace tanto le cose che c'ha salute metto dai 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 e vince il poggers poggers ragazzi monca giga eh oggi è coprendo del signor madia si compie 63 minuti ma con sta barba se sei non è 63 monca giga tiro l'abilità tra poco 3 2 c'è cecchino dai dai vediamo chi ti fa più danno eh merdo ma c'ho già l'abilità ma quante volte la posso usare ma incredibile ma con chi ragazzi occhio arrivano sul punto eh sono da solo ah no in realtà credo abbia un sto continuando a usarla si però una kill la uso esatto credo dopo una kill ma sul punto non ci vanno isciuti nooo non ho scuto di vita cazzo è lì è lì dietro ah guarda non li prendiamo sotto gamba come svaldo paniccia che fa un casino eh il punto non lo stanno venendo a prendere comunque ma sono stepsy nooo è partito il coso ma non ho fatto in tempo ho sbagliato pensando che la granata si lanciasse per un attimo me l'ha no han preso il punto come l'altra cosa non ce la faccio mi arrivo hanno preso tutto quanto grazie belli grazie mille a tutti ah c'è dell'arancione che male che male che male che male è vero che anche Keno fa gli anni oggi è vero si e tra l'altro ieri c'erano Karim e Dlarg post it aia sono esploso con la mina arriva arriva vado via vado via bravo Corvo no che laggata no è andata via no è andata via come ho fatto eh no vabbè però ci stanno spaccando no ma infatti perché stiamo andando troppo cioè loro sono fermi a fare da torretta eh dovrei gankare se io riesco adesso vi lancio il veleno là dietro bravo prendete il punto piole c'è stato il punto no buono 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 che round delle balle che ho fatto io non abbiamo più vita qua 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 dietro al muretto ce n'è uno anche qui dietro eh oh cretina guarda quante vita mi tolgono ok dai che quello là è morto c'è rimasto Anvil qui si è tolto quasi tutta la vita occhio che non è finita per niente oh ci siamo riorganizzati un secondo eh bastava un secondo riorganizzarsi e non siamo mai più morti buona 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 ma ancora la matura quante volte si può prenderla no la matura la prendi una volta poi te la dai inizio round e basta occhio a cosa aumentate dell'arma perché delle volte appunto non c'è bisogno magari non vi serve ecco qui mi da il danno damage range ok 7 che cazzo mi prendo? al damage range è ottimo più team faster non mi serve perché io non radio un cazzo occhio che siamo andati noi moro eh lo so eh lo so quello è questo dai nooo ma come? ma grazie 27 euro come la mia età grazie mille eh eh io che non lo so svizzero no grazie di cuore ma svizzero no è per i 27 euro no è per tutta quella fascia forse svizzero no eronin postitta ma sono cacchio è proprio già morto subito si ahiaiaiaiaiaiaiai grazie al shocker comunque porca miseria vizvus? lo sciolti nostri pazzi dentro c'è sempre Envil occhio a non andargli dritti in face perché c'è il mitraglione lui è è qua Aiuto Ero nel punto da solo Le ho uccisi tutti fino a una certa comunque Ancora qui dentro Finché sono vicino Faccio stragi con questo Ho ciò che potrebbe fare il giro là dietro Sono là dietro anche Tra poco ho l'abilità Poti 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 Aia dietro 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 ragazzi Sto a bruciare Non mi pare non è vero dietro Si 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 c'era Ron sono sicuro l'ho vista C'era Ron? Pi 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 riri pi pi Eccola Non era una donna Era una signorina Non era una donna era una signorina Ok possiamo arrivare anche da qui dietro Settimo cello Tiramelo su Eh non ce l'ho Cazzo infatti Sono arrivati da lì Dietro i tagli Dietro Marco Dai Stavo tirando la granata Dietro arrivo Vado a gankare se riesco Mark sta impolto bene così Ma chi l'ha detto che sei pronto? Jesus mi fido di te perché sei Jesus Stanno gankando tutti ragazzi Sono tutti qua da me Porca paletta Porca paletta Non venite Lasciatemi a me come bait E' la Claymore di vicino E' qua Ah troppi Ma non era vero Marco Ci ha gankato di conseguenza Adesso ne è rimasto niente Quello che ho pingato Devo recarracare E' uno sull'obiettivo Sì No Pippo Quasi per terra Ok Ma com'è possibile? Ah Drone in qui A dinistra c'è anche No porca miseria Stanno gankando Envil Ragazzi Ma no Nando Sta arrivare Envil Eliezer occhio Bravo 2 contro 2 Stabilità è troppo forte Ma sì ma non ci ho Ma stiamo scherzando Sì Marco Era uno scherzo Stai 3 contro 1 Si sta facendo vedere Vabbè questa è andata Si riesce a prenderla Niente Si rifulla Si rifulla Eliezer Devi lanciare l'incendiario Eeeh E' dietro Dietro? No è a Sì 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 è qua dietro Qua dietro Era dall'altra parte del muro C'è qui a destra Eh perché stavo arrivando di qua Adesso stanno Eh sono quegli altri che ti riconoscono Adesso c'è lì dietro Puoi saltarlo lì il muro Salta il muro dietro di te Arriva anche l'altro Ti hanno circondato Gli denti Se l'hai eliminato Scherzo epico finito Mario Qua sono stati meglio Qua sono stati meglio Quindi di Nistra non termina ufficiale Certo Io che mi prendo Questa mi rida le munizioni Ho preso la giugua Ho preso quello infatti Delle munizioni Perché io ne ho bisogno Si tratta di un esplosivo. Molto bene. Sparano. Eh, ma come sali? Sei pazzo salire lì. Che magia? Mi pompano! Ragazzi, mi hanno pompato. Guarda quanta vita mi tolgono subito. Davvero, cazzo. Pastina per... zentiere. Nooooo! Occhio, eh. Pieno qua, non riesco minimamente ad andare sul punto. Ok, tolto anvil. Pastots! Dietro, di nuovo! Ma che palle! Ma che ci ha terminato a fare le Claymore? Eh, perché adesso se l'aspettano, magari. Eh, dittira su, qua. Sì. Ma nel punto ci sono io. Ma le Claymore sono la roba più inutile di sto gioco, ovviamente. Perché si vedono troppo, si vedono. Non vedo. Ho fatto un add-see-out. Ahia! Eh, tutti qua. Tre almeno. No, dai, non aveva più minchia. Guardate che se rimaniamo così sono inutile, io purtroppo. Ho sparato sul Q. Occhiole dietro al muretto. Dietro l'angolo. Porta. Ok, sul punto ho messo la merda. Sono io. Mi confondo quando c'è troppa gente. Ho veramente tanto... Ma c'è Dima lì sopra che ha rotto le palle. Ma questa che puscia così in mezzo a tutti se le sbatte. Ho tirato il cosino. Ma non servirà niente, no, invece. Invece. T'ha lasciato completamente a... ...mazzi. E io muoio. Mi fanno pippare. Eh, no. Ho ciò che abbiamo finito le vite, eh. Già, oh, cazzo. Eh, li provo a girare da dietro. Se li giuro da dietro è becco D, ma... Sì, 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 sì. Eh, ok, cambiamo tattica, perché sennò è tutti inutili. Ti ho tirato addosso, forse la sento. Cazzo. Non è andato giù ancora. Ho preso anch'io. Cosa è questa? L'ho sciolta. Ho 5 di vita. Ok D, ma qui non c'è più, non c'è più ne su? L'abbiamo atterrato. C'era un altro. Scusate, ma... Qua, qua, qua. Non ce l'ho, lei. Non ce l'ha carica, aspetta. Ok. Non posso più rinascoprire. Arrivo. Sei morto. Oh, D, ma è veramente sempre lì, eh. Si fissa con un posto e rimane lì. Eppera là. Due a due. L'altra modalità io la faccio da solo, perché agli altri piace un po' meno. Si, ma a me più che altro l'altra modalità dura troppo, non c'ho voglia, perché come modalità è bella, non è brutta. Io mi ci diverto tanto con quella lì. Però... Però dura troppo, non c'ho... Cioè, volendo adesso possiamo fare anche quella, eh. Eh, ma quella... Cioè, molto più strategica, perché non hai tutte le armi da subito, devi gestirtela meglio. Possiamo provare a fare anche quella, adesso la facciamo, dai. È chiaro, è più lunga. Cioè, questa qui è più immediata. Spari, prendi il punto e via. Vabbè, facciamo ancora una di queste, perché così poi io posso andare via. Poi fate... Sì, sì, dopo mezzogiorno. Facciamo... Proviamo per quella. Intanto stava atterrando un aereo da Corvo. Sì. Senti, senti. Boing. Sta partendo più che sta atterrando. No. Lethal out! Lethal out! Che botta! Dove sei a terra? Dove sei a terra? Mimmi! Madonna, santo. Mi hanno scolto, mia. Mi hanno distrutto il robotino. Veramente scolto, mia. Arriva dietro la pippa. Eh, questi non sono male a giocare, comunque. Ok, a terra. Non è meglio che stai lì. Quanti enti sotto ti devo fare, però? Sì, cioccano lasagne. Non è giù per quanto! E sono andato giù io! È incredibile, ho! Ti tirate su, ragazzi! Eh, ci ho provato, ma cosa vuoi essere atterrato invece non ti. Capperi! È un po' tardi, miss. Ce la facciamo adesso. È stata giù! C'è ancora gente, c'è Anvil là. Ok, ho tirato giù Anvil. No, dietro! Di dietro, il mio pube! Ciao Arcadia. Ciao Arcadia. Annalale, ciao Arcadia. Annalale, Arcadia. 2A. Tiro su! Liezzar, Liezzar! Eh, eh. Sono soltanto. Eh, sono soltanto. Eh, ma sono tutti qua. Cazzuola di gomma. Ah, preso. C'è gente qui Marco C'è ancora gente, un botto le gente Qua 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 Ho detto Tira superlo Granata addosso a me Ehm, porca miseria Ma non è possibile Ma non è possibile Eppure l'abilità che si cura dopo Cosa corri così sei pirla? Erano tutti lì Vabbè, non muore Gli sto spaccando la faccia Non è che mi ha aumentato la vita No ragazzi, vabbè ma Io non ci credo Ma questo non ci ho preso mai Non rinasciamo più Buona Gli zarraroni in lì eh Eh, lo so Ok Bravo, bravo, bravo Dai Gli ha fatto un botto di kill comunque sta partita eh Ehm, durata sta durando un sacco Dietro il muretto Tra un po' scavalcherà sicuro, amore Ma rocchio alle munizioni dell'arma Ehm, si Se potessi cambiarla con uno per terra Ma dai, ma mi c'è arrivato Che infame Ripipiopipi Volevo dire, sto pushando Ronin Peccato Ah, cacatori Di legno Cacato, peccato È stata una bella partita Sì Tori di legno poi secondo me è male. C'è tanto. Eh certo. 32-33 kill abbiamo fatto i primi. Ma cosa mangi oggi a pranzo? Chi? Tu. Io non lo so. Ma non rambacca uno, scusa. Non lo so, ho anche 21 anche te. Poi faccio la pasta col tonno. Cosa mangiavo per pranzo, Domi? Bene. Pasta col pollo. Pasta col tonno? E i broccoli? Poi togliere qualcosa. Io una cosa che voglio provare a fare, ma non in questi giorni, è pasta, patate e provola. Pasta, patate e provola, sì. A me piace pasta, patate e pomodorini. Io le patate come la salsiccia le voglio da soli. E stai zitto, Marco. Preferisco da soli. E basta. Sempre la pizza, la pizza, basta. Poi borghese. Se mi fai una patata al cartoccio o una salsiccia e basta, preferisco che metterle insieme ad altre cose. Ma non rompere i coglioni. Poi patate e salsiccia è l'abbinamento più buono che esiste. E non mi... Lo mangio se me lo dai, bravo. Ti spatolo. Riprovo V di League of Legends. Eh, prendo Phantom Dancer io allora. No, lei può dire quello che vuole, anzi. No, non può dire no quello che vuole. Tanto già le dice tutti i giorni le stronzate, non è che adesso... Il canale è nostro e come... Essendo nostro deve essere di comune accordo. La maggioranza vince. E basta. E la maggioranza dice che Marco è uno stronto. Siamo tornati, Zamir. Buon appetito. Troppo rimarrò stronto allora. Beh, la pizza, patate e salsiccia in realtà è buona. Minchia se è buona. No, ma la mangio volentieri. Certo, perché è la cosa più buona del mondo. E non devo... Non dire altre cose. Preferisco altre cose. Non patatine fritte assolutamente, patate al forno. No, patate al forno, sì, intendevo... Quella lì ho anche... Ma se me la patate fritte sulla pizza, no. Come la pasta e patate, se me la dai, non è che la butto via. Mi piace e la mangio, però preferisco da solo le patate. Per chiaro che le patate sulla pizza, così come le patate sulla pasta, che sono carboidrati su carboidrati, fanno malissimo. Eh, esatto, io preferisco non mettere. Poi sarà che c'ho anche una cosa mia in testa, non le voglio mettere patate sulla pasta, sulla pizza. Non le patatine fritte, si parla sempre di patate al forno, ovviamente. Le patatine fritte solo se hai 12 anni. Io prendo la cechina sempre nelle mappe dove non dovrei. Tra l'altro, da voi, la pizza con le patatine fritte, come si chiama? Peter Pan. Peter Pan. Da me si chiama Super Pitaco. Questo danno. Questo censimento, l'avevano già fatto? L'avevano già fatto in live? Che schifo. L'avevano già fatto, forse, è vero, avete ragione. La mia obiettiva, dipende. Ho butato a giù. Just Ron, Nemesis 2. Ti 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 ti. Grazie Emanuele. Grazie Emanuele. Grazie mille. Dietro Marco, sono un sacco di persone, porca paletta. Ma infatti non volevo venire. Io questo percorso non lo volevo fare. No. Ma come è un medico? Ma dov'è? È occhio dietro a Dima, non so chi era. È io. Alzheimer in comics. Eh, sì. Ha ripreso il punto. Adesso vado io ci sputo sul punto E' schifo E' questo faccio Vuoi farlo è che non so quanto servo Ma come no gli tolgo la minghia Grazie Marco 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 Dove sei? Ma ancora mi fa capolino Ah c'era l'altra Ho lì i tortelloni ripieni Non ce la farò mai Ce l'ho fatta incredibilmente E' morto ma ti sto arrivando Ma scusami Ma ti ho arrivato Ma ti ho rivivuto io Non si rompono queste Ho colpita eh Ho fatto già strona questa qui in testa Maledetta Ma come mi pellano Ah sta avanzando infatti E' che non abbiamo punti d'accesso O facciamo il giro lunghissimo No sono più avvantaggiati loro qui Non ci prendo E' anche Orca merda Io l'ho cecchinata la ragazzina Eh non ho vita Ho provato a coprirti Ma A me piace Ma c'ha il problema Di uno spawn che è più vantaggio dell'altro Dai 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 Ho il punto se riesco Lo sapevo C'è qualcuno dietro? Marco c'è qualcuno dietro Eh ma c'è Eh ma c'è E' un'altra cosa E' un'altra cosa E' un'altra cosa Sono solo da stasera Senza di Ma che faccio Ah devo ricaricare l'arma Che spifole Ma perché non è che potevo fare chissà che I tortellini della rana con la duia e la mozzarella No io li avevo presi alla No era duia e mozzarella Sì ma non erano di rana però Però erano buoni sì Era buio di rana Di rana Adesso vado al pub e li cerco Ma in realtà Non ho preso la cosa Quando ti abitui No Però Diciamo che Dipende anche dai personaggi che prendi Tipo io sono il cecchino Se arrivo dall'alto mi trovo meglio Quando arrivo dal basso sono un attimino più spaisato Però in realtà si può fare Cioè non ho trovato grossi vantaggi per uno per l'altro No non vado avanti io Andate voi qua Sì lui dice Sono pensate per l'altra modalità Che c'è attacco e difesa Quindi Mi sciolgono Stanno prendendo il punto Mi sa io gli ho tolto Tanta di vita Cazzo mi è caduto Ma chi è che mi toglie Aia Buttata giù Dai figurati Aiuto Grazie per prendermi Aia Ragazzi ho più che arrivano da dietro Master X Ma mi hanno già sciolto E Bob X Dietro dietro proprio Ce ne sono un sacco di gente Così di gente ragazzi Che c'è gatto per il ride Ce ne è arrivati a tutti Bella raga stasera siete dritti Per cosa? Per no Stasera no Marco è dritto un po' Lascia palega lei Minatroio Qualcuno qualcuno Hai tirato una granita Eh no non ci arrivo Niente L'ho buttata giù Non mi incazzo Che c'è 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 Mi hanno ciucciato un sacco di vita Ah stamane siete dritti Ah stamane No stasera Tutti hanno scritto stasera tranne uno stamane Quindi Ti do di più degli altri Ma dai sono a terra Ma ti stavo rialzando Non posso rialzare Ho due di vita Quindi niente Non c'è E' veramente schifo Questa partita Aspetta Quanto esce Questo gioco Quanto costerà Costerà 0 euro Quando uscirà Amici aiuto Non ha vita Ok Qualcuno può Aspetta Che ci sono un po' di persone qua È un rischio Più che altro da sinistra Arriva uno da sinistra Niente Mi hai buttato giù Aiuto Costerà 0 euro Quando uscirà Ma non si saprà Quando uscirà Sto facendo fare Un sacco di punch Eh Marco Merky Marco Puzze No Aia La morte Siamo chiusi nello spawn Porca miseria Se si Vabbè Una a terra L'altra a terra Sei morto Per terra Sei dritti in generale Assolutamente No ragazzi Cioè Minchia Se siamo le persone Più storte Non siamo possibili Di drittura Noi Si con 8 vite Ci lasciavano tranquillamente Non prendo mai perks Perché mi fan cacare I suoi perks Non li reputo Granché utili Eh vi Non lo so Non l'ho mai usato Ma perché mi sono inchiodato A terra Non ho capito Cioè preferisco Potenziarmi E E vado a ciappare la galina Eh quanti sono là C'è un botto di gente E che il fucile mio Non fa un cazzo di danno Mi sembra Madonna se mi hanno sciolto Ha un ratio molto veloce Per carità Ma non gli faccio danno Con le granate Ma sta pappa Ma quanti sono Sono più di 4 Ve lo assicuro Eh infatti Si or Ma Ma reponte Ma io gioco in prima persona Ragazzi cosa ho fatto Qua veramente è Nemesis 2 Mio dio Mio dio Voglio le ricompense Voglio la nuclear Mi hanno sparato nella zippeline Mucho dolor Ma dietro Ma questo stronzo Ma come è fatto ad essere dietro Qualcuno può tirarmi su Sono veramente dappertutto Mi sono rotto i coglioni Dov'è Voglio Renato Pozzetto Voglio Voglio Pozzetto che dice Mi sono rotto i coglioni L'ho buttato giù Stavo moro San così ci copriamo Vado di qua io Aiuto Non sapevo la per Ragazzi ce n'è uno qua No qua no Marco Eh sono morto Ma porca miseria Perché sono andato Era l'ultima vita Ma dai Quasi vivo Era l'ultima vita Era Vabbè Non ti so stamattina perché C'erano i server Server sono in manutenzione All'ultimo ce l'han detto Quei pezzi di culo Esatto Mi hanno detto Un'ora prima della live Dopo d'esta partita Che è finita male Epica ma finita male Vi saluto Un saluto E ci vediamo prossimamente Certo Voi vedete le mappe Che ci sono per adesso Nella beta Quindi Buon appetito E buon pomeriggio E buon pomeriggio Ciao belli Allora Kick Via Corvo Dal party Levati Vedi se devi sistemare webcam Si Andatemi Un secondino Mi sono appeso Alla funivia E ho fatto Edshot Edshot E sono cadute Tutte e due Però non ho provato Se la prendete tutti da un lato e dall'altro Poi la zipline Non è la funivia Tra l'altro Dalla zipline Se la prendete tutti e due Da un lato e dall'altro Cadete Andate a sbattere Cadete di sotto Ah se lo prendete nello stesso momento Beh si Se siete sulla zipline Due insieme No 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 Se vai in fila No In fila no Da un lato e dall'altro Ah beh si Penso di si A meno che non c'è Di quello davanti a te È Bresaulone Grazie Bresaula Per colpa del latino Buongiorno Eh ma il latino è una lingua morta Poi vedi Mori anche lassù Se pensi troppo alla Bresaula Che dico Al latino Questo è Panama Il lato A Potrei usare Chuck Potrei usare Dima Potrei usare Cioè qua va bene anche Dallas Va benissimo Dallas Qui Bravo Anche ore da scaricare Quante donne era tantissimo Vedi Eh Sì no un po' Era tipo Era un 20 giga 20 giga O 11 o 20 Mi ricordo Mi ricordo Perché mi hanno scaricato Un po' di roba Sti giorni Tra l'altro amici E se prendessi scorce Che non la uso mai 11 giga Ok È prona Spostare Perché in questa mappa Avevo fatto abbastanza kill L'altro amici Eh ma scorci in questa mappa Non lo so È abbastanza vicino Cioè qui bisogna prendere roba Abbastanza distante No mi prendo Dima Prendo Saint Che Qui serve Dicevo E invece il day one di Horizon Potrebbe saltare Invece Sì Perché non riesco a scaricare Cioè se Probabilmente Riescono a darsi la chiave Eh Sì Bisogna vedere Vabbè Venerdì Farcia Venerdì Dici Sera Venerdì Sì Lo facciamo venerdì Sera Secondo me ce la fai Può essere Sì dai Dovrei riuscire Perché lo voglio fare Il Se vuoi lo faccio io Che c'hai anche poi Il more by night Vabbè che cazzo cambia Eh no Che non devi farti la live O in stop E fai un'altra live A me Non mi cambia Che lo aspetto da un sacco Horizon Su pc Su play ce l'ho già No su play Io non l'ho mai proprio giocato Infatti sono molto curioso Sono molto molto curioso Di Horizon Allora Questo è il magic Qua parto con la Deagle potenziata al massimo Io Perché è una bestia Farm Dici Io Anche Tu cos'hai La Deagle No Sì Sì è la Deagle È vero Perché io ce l'ho Si nota di più a me Perché ce l'ho rossa La Deagle io la metto al massimo Perché è veramente Una bestia Andiamo su A Sì E poi il più vicino Perché loro andranno su B Tanti si dividono Infatti Però Dobbiamo piantare noi Ce l'ho io la bomba Solo che mi dovete Cuvri Vieni qua Vieni qua C'è gente Qui a Ok morti tutti Buona Minchia Ho tirato la bomba addosso a uno L'altro l'avete Sono morti tutti Con una bomba Eh prendetevi l'arma principale Sto giro Sì sì Con un aiuto in più Io poi dalla prossima Prenderei ho la granata Un perk Adesso vediamo Io sono la Claymore Ma loro sono Uno è già uscito Ma dai Che fastidio Ma per forza Li abbiamo Sbudellati forte Ho capito Ma perché devi uscire Perché sono dei figli Di puttana Marco Certo La loro mamma Non ha avuto il tempo Di educarli Perché era sulle strade E Horizon Penso che Sugli 80-90 giga Pesi Addirittura Secondo me sì Vabbè Però ce la dovresti fare No Se ce la danno La mattina Per la sera Dovrei farci Spero che mettano La penalità Di un'ora e mezza Guarda Quando riusci Da stai partire Sono qui Lì Ah c'ha il muro Vabbè Io ho mezzo Il muro glielo spoglio Io ho planto E batti Pi 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 Piri piiri Piri piiri Piri pi 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 Qua se muori Muori tra l'altro Sì sì Qua non responi Chi è? L'Uber Che pena Ho caduto nella Te sei un imbecille Perché puoi nuotare Ma stai nuotando Puoi nuotare Puoi riprendere Puoi risalire Se hai una piglia Se c'è una parte bassa Non sapevo Ma che storia Prendo il perk Della vita Ma qui La cosa dell'armatura Io mi son preso Granata E life drain Che è molto utile E life drain Fa un culo Se è utile Mi prendo Il giubbotto antiproiettile Adesso dopo potenzio l'arma Io non ce l'ho Anche perché Aveva anche il giubbotto antiproiettile Dima Veramente Torniamo su Ah Andiamo su Andiamo su Chi è che c'ha la bomba? È Ronin Go here Go here Eh passa Ma Red Pops No Sono uno stronzo ragazzi Erano già tutti pronti qui stavolta No sono giù ragazzi Qualcuno mi tira su Leager vieni Vieni se riesci Corri Si anche perché qui Dura di più stare a terra L'altro la granata Non gli ha fatto niente È morto l'altro Ah ma dovevo ricaricare Eh mi ha buttato Avevo capito Non avevo ancora La mia Ma rilassare è importantissimo Anche nell'altra modalità In realtà Perché Bisogna anche dare un occhio ai compagni Qui potrebbe essere utile anche la smoke Dopo ci guardo Io mi son potenziato l'arma Che c'ho 40 mag size Anziché 30 Dai dai No ma Bresaule Dovrebbero mettere semplicemente la penalità Se esci Ti permabanno Ti cancello l'account steam Oppure fai in modo Che la gente In ricerca Può entrare in quella partita lì No perché Perché poi Ti butta sempre dentro le partite già iniziate Perché l'ho ricettato Ma lo fai come rainbow Cioè lo entri in un altro round Ok poi riparti C'è già il team composto E via La bomba ce l'ho io sto Gino Fa il giro eh Mi sa uno Fanno il giro ragazzi Non ho Ci ho preso un cazzo E non ho vita C'è Dima in fondo Ok l'ho tirato giù Dima Sto facendo il giro eh Ragazzi Io puntello la bomba intanto No l'ho messa Però sono a terra L'ho messa eh Lizard se mi riesci No non c'è C'è uno Sono quasi in acqua Vada noi L'ho ucciso Vada noi Vada noi Ce n'è uno vicino alla bomba È proprio dove c'è la bomba Marco ma dia Speriamo che anche l'altro Non si butti in acqua Niente Ce l'abbiamo persa No no aspetta Stai ancora Eh no sta disinnescando Oh Allora è glicciato Era glicciato non è giusto Ma tanto Marco non c'è di arrivare Beh era qua non è che era Fa vedere Questo mi inizia prima la rigenerazione che può essere ottimo Ok Allora è bene Così facciamo Ma i bot poi sono deleteri perché uno li scioglie e ti toglie tutti i ticket poi Si no i bot Piuttosto nessuno Non puoi assolutamente No ma guarda se metti solo la penalità vedi come evitano di uscire sti figli di merda Anche se esci dalla partita non giochi per tutto il giorno Così 24 ore di panno di volta Eh vabbè Magari uno crasha Eh sono andato giù Aspetta che gli sto facendo il giro da dietro Ah da quando abbiamo un medico? Ce l'ho sì io sempre Ce l'ho avuto Porca puttana Eh che stallo Io sono qui con Dima Stiamo giocando al gioco del pippero Ma che si cambiava la spalla? Con la E Ragazzi occhio Non posso Cazzo sono veramente il gioco del piripire Abbiamo fatto qua con Dima Eh Dima è qui eh Eh sì Eh dietro il muretto Gli è zero a destra E anche a sinistra Bravo bravissimo E ti arriverà di male dietro secondo me Cambia anche spalla con E eh Bravo Gli è zero Che rotolatina pericolosa che hai fatto però Sì Bravo bravo Mi raccomando usa sempre per Abituati a cambiare spalla Che sarà utile qua Eh sì È il ballo del pippero Fatto La mage che è eh Potenziato la granata Così E siamo Tutto l'anniversario per fargli augura Quello meraviglioso che è Marco Mua Ricca Grazie Grazie Ricca per il 42 Che beltade Dobbiamo andare su B Li fottiamo così Dai Mi piace come Andiamo su A No andiamo su A Andiamo su A Usiamo la zipline Eh ostia ma se andiamo su A Non serve un cazzo Allora andare su B Ah ma stanno su A Stanno su A Che senso Moro Eh se vai su A Ci vedono su A E ci vedono andare su B Ah se la bomba è io so Eh appunto non se la spezzano Vai su A e poi vanno su B Vai su B Loro pensano che sei in A Invece vai su B Eh ma se andiamo su A No 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 Tiratemi su Tiratemi su Poi la terra Tiriamo la terra E tu hai detto Vai su A Eh Loro credono che vai su A E ma se ci vai su A Non è che ci credono Ci vai Andiamo su A Io non volevo andare su A Ma tu hai detto Vai su A Poi andiamo su B Appunto Vai su A per finta Dall'elicottero Tu vai verso A Loro pensano che sei verso A Invece vai su B Dietro Questi adesso hanno fatto una cazzata Loro vedono dall'elicottero Che tu vai verso A Appena camminato Vai verso B Con la zipline Tu hai detto Vai su A Poi con la zipline Vai su B Eh ma se vai su A Vai su A Non è che hai detto Fai vita Di andare su A Ma poi giri Eh va bene Nel senso Era quello il discorso Allora Prendiamo Sempre gli stessi Teniamo Io sì Io sì Eh ma il fatto è che Devi andare da lontano Quindi Vabbè uso No Non l'ho ucciso Io non mi pare No uno l'ho ucciso io Vai su Hunt Potevano plantare O sbaglio No dovevamo Noi potevamo plantare Noi 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 Piri pipim Pim Piri pipim Ho ripreso D ma non la cecchina Perché la cecchina non ha Un grosso A parte che si ritrovi uno Vai su B vai su A Ma non che loro Dallas Doppia Doppia D Non che loro Maverick E Dallas Soro me ci vuole sì Bravo Moro T'ha battuta la cestistica Perché sono un fan Del Chicago Dallas Soprattutto Del Chicago Dallas Stanno andando su B No no Adesso Prendo la zipline E vanno su A No B A B Io vado su B Andiamo su B noi Stanno veramente vicini Do copertura poi Mentre plantate Siamo andati tutti via Chi è che ha la bomba Scusate E' loro Ah ce l'hanno loro giusto Arriva Eh girano anche di qua Eh ragazzi Ok Girano di qua Sono due qua dentro Enemy spotted No son volato giù ragazzi Dai Prestora mi ti attacca Ok han droppato la bomba Ce n'è uno Dietro E' Chuck Eh si è Chuck No non è vero Mamma mia Spara spara Pim 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 Ragazzi Ah ah Eh Ciao Ferri Ciao Ferri Ferri drop a questo gioco Per favore Dai Veloce E basta E basta Valorant Posso anche comprare Sì 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 70 centesimi 30 più la commissione Sì 70 centesimi Io mi tengo 2005 per dopo prendermi la granata Ma la roba più bella è il ragdoll dei cadaveri ragazzi in sto gioco Mo soci Vanno su A Uno Ero indeciso Ma ha detto dai Vengo con voi Sono su A Mi sa Sì 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 Sono su A Vediamo un occhio lo stesso dopo Sperdito a niente Occhio che scendono, l'ho visto Lombo sparati, eh Io sparare con la spalla a sinistra non sono abituato, mi dà un fastidio Eh, poi ti abitui No, Marco, mi sei passato l'avanti Sono minchia, Marco E' rimasto con un HP Adesso plantano dall'altra parte Invece no, la bomba è lì ed è morta Ma dai, gli ho lasciato veramente la vita che non la vedevo Ecco, me ne sbatto, guarda Prendo il giubbotto, capezzolare E un potenziamento anale No, no, Marco, io sono Garibaldi E Garibaldi sai com'è finita, no? Fu ferito d'una gamba Eh Dividono, mi sa, sto giro, eh Vanno in mezzo No, vanno su... Si dividono, guarda Guarda come si dividono Sì Eh, li prendono su B, dai No, sono andati tutti su B, mi sa, sai? Io vado su B, infatti Allora io vado su un attimo su A Giusto per vedere Non ne rientrano dall'entrata di prima Da qua Sì, ce n'è uno su... C'è Envil qua su... Questo qua Come si chiama questa lettera? Ah Eh, non sono particolarmente adatto alle A Sono più adatto alle O Sono tutti... Cosa? Marco, vieni qua Eh, qua che vuol dire? Beh, Fall Guys se lo aspettavamo Che era un sorpresone dell'anno Ah, sono qui fermi? Come sono qui fermi? Eh Eh, è imbarazzante sta cosa E sparagli È creasciato il server? No, voi vi vedo Questo qui mi sta sparando Quindi sono pure morto È imbarazzante, sono lì fermi Io sono deceduto C'è Envil qua È imbarazzante quella cosa Oh, ok Adesso moriamo tutti Moriamo Ah, poca vita Lasciatelo, lasciatelo Dovevi lasciarlo lì Che stava caricando Un po' probleme Erano una volta di fronte a un muro Fermi In due erano proprio contro il muro Con la bomba Non me l'hai detto? Hai detto in due? Eh, per la gola Purtroppo la barba mi fa venire mal di gola Certo L'hai mangiata Perché l'hai tagliata Se l'hai mangiata in un panino E il tuo mal di gola Molto buona Molto saporita L'abbiamo vinto Un'altra sempre demolition Facciamo? Dai Comunque è carina come voletà È più corta comunque di Valorant Quindi va bene Volevano anche poco Farlo più corto di Valorant Io ho vinto tre match Mi dai il mio premio? Me l'ha dato? Forse me l'ha dato? Non lo so se me l'ha dato No, io due di tre Abbiamo vinto il due L'abbiamo vinto Stasera mi buco Stasera Ma io non c'è il mio personaggio Vabbè Scusa Edil Ce l'ha scritto Fai 10.000 danni Ho fatto 10.500 su 10.000 Sì, sì Ho vagato Te lo dai in realtà Ti avevo promesso Galva Grazie mille Grazie Le masa Oggi vi ha letto trentino Lo vogliamo fare stasera su Playstation Cosa? Tanto non penso cambi A parte bisogna vedere se sono posti i server Più di alto Però in caso possiamo farlo su Playstation Perché tanto Cioè su Playstation ci sarà ancora più gente Quindi non potrà giocare nessuno Ancora di più Vabbè vediamo Dai vado di cecchina Adesso non ha senso Magari su Playstation Potevo streamarlo io Voglio provare a andare con la cecchina Che secondo me è un'idea delle balle Perché la pistolina della cecchina fa schifo Quindi il primo round se è solo di aiuto Io riprendo Saints Cosa faccio? Saints è utile Ma chi è? Ma quello lì ha preso Talon Che fa schifo C'è Talon il personaggio più inutile del gioco Non mi ricordo neanche che cazzo di brita c'ha È al cacchio di dardo Ma bisogna vedere se lo usa decente Perché Magari è bravissimo Cioè ma lui bravissimo Può usare il loadout Proprio con le armi eccetera Perché se usi bene il loadout Tutti possono essere utili Che poi è veramente bello come persona Cioè il classico Eh da sleeping dogs Il classico sì Yakuza Sleeping dogs Così Però è inutile Gaetalon Eh vedi c'ho la cacchio di pistola delle band Vabbè Ho la pistolina Ma io non la potenzo La pistolina adesso È tanto comunque No La primaria la prendi lo stesso Dopo la prendo però Posso già potenziarla volendo Eh beh dipende sì poi dall'arma Potenziandola mi dà Potenziandola mi dà più Colpi nel caricatore Eh sì ma è utile Vuol dire che devi ricaricare dopo Il colpo è più utilissimo infatti È velocissimo a caricare Adesso B è uno sua Ma può essere veloce Può essere anche istantanea caricare Ma se Quell'altro ce l'ha ancora C'ha un colpo nel caricatore Ti frega un testo Ma c'ha la mitraglietta questo Altro che È come secondaria È Chuck No è Tracer Di via via Vai via Scappa Eh c'hai un pippo dell'ano Marco Adesso vediamo Qui Talonflame Lui è la stessa Pistolina che ho io Sta ricaricando Non sta ricaricando O forse è un bug Ho credo sia un bug Ma chi cazzo ho sparato Che non c'era nessuno di là Che si fa Ma che bellino che è però esteticamente Ma esteticamente è fighissimo Compro solo perché è bello esteticamente C'è l'ho tutti Ho fatto la figura del cioccolataio ho fatto Dai dai Io ogni tanto ci gioco a Pokémon Io sempre non ti gioco Io mai Almeno per Cioè io quando Ho anche disinstallato C'è stato un bel periodo Grazie fede Grazie fede Ok ok Fatemi fare un balletto da Cioppone Come si fanno le cose Con la zetta Dai zetta e poi Che faccia di pirla che fa Farmela devo giocare veramente bene Ti subì mi so Cos'è il peracottaro Il peracottaro Con le pere cotte Che fa le pere cotte Benz desi Occhio dalla zipline Si c'è uno Eh sta piccando però Eh vabbè lasciamolo lì Che arrivano tutti questi di qua Aiuto Ho rotolato sull'unico muro che c'era Dai Peppe Ce l'hai dietro Ti dà le ascettate Eh quello lì ha aspettato che gli arrivavano tutti da lì Ho fatto bene Quello lì ha preso l'attenzione dalla zipline Poi hanno aspettato tutti gli altri Che ci clacciassero Eh l'avevo anche buttato giù coso Dovevamo levarci dalle palle subito appena visto quello lì dalla zipline Dovrebbe essere utile una claymore qua Sì alla granita Ok ok So bene Allora dai rifacciare la stessa cosa ma siamo preparati stavolta eh Ah grazie Rikishimaru per questa aggregazione pellica No Metti la claymore nella finestrella No metto qui nella zipline Ma la vedono? Possono sparare dalla zipline Sì ma che cazzo fanno in tempo? Certo Tutto il tempo del mondo Allora valla Appena arrivano scioppano Da quanti ne ho rotte Paura da dietro Eh parti da dietro Ho ucciso dalla Ok la bomba è qua Sono sotto Morta anche a Kist Tiro su io Tiro su io Questo è quello che faccio Aia Ragazzi Gepetto Vabbè ma aspetta aspetta E vabbè ma Adesso vi lascia da sinistra Ma non ci ho preso un gazzo Che figura di pappa Ho capito ma E adesso E all'arma E non è ripulvita Ma come sparava Sparava così Sparava Ah non ha l'arma No C'ha l'altra Però quella lì Ragazzi Spesso la usano senza mirare Perché ha comunque un borranteo di fuoco Sì però il nostro compagno Era veramente In culo Ai pippi È vero che c'è anche il crossplay In sto gioco Proviamo a così No aspetta Non te lo dici Se è crossplay Cioè Da che console arrivi Sì in teoria Sì I'm blue eyes I'm blue Da badi Da badelli Orca miseria Orca miseria Moro Grazie Come mi tolgono queste persone Ok uno l'ucciso Gli ho tirato via tutta la vita Ma ne aveva ancora di più L'ho buttato giù Tira su questo Non posso Non posso Si stava tirando su anche lui Era Chuck Norris No 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 Ma siete morti tutti Sì Eh sì Eh sono lento a tirar su No perché rotoli Gli zzzer Eh ci stava lì No non ci sta mai rotolare No perché se rotoli Ci stava perché gli stava sparando Eh non puoi sparare tu Eh ho capito Ma dal momento che l'hai iniziato tutto il tempo Se rotoli magari gli stivi il suo colpo E lui poi deve ricaricare pure lui Se invece non rotoli A questo punto della partita C'hai un botto di caricatore Rotolare comunque Rotolare serve anche per far perdere colpi a lui In modo che lui poi deve ricaricare Sì ma ti spara lo stesso Cioè Eh dipende Non sei vulnerabile quando rotoli È comunque una chance in più Che magari ti puoi dare Se hai visto che l'hai iniziato sempre No anche perché non avevi iniziato a sparare No no stavano sparando entrambi Come no Stavano sparando entrambi Nel momento che vedi che l'hai iniziato Perché non hai sparato bene Dai la rotolata Perché magari lui la spreca Per cambiare Per seguirti Sì ma se devi scappare Eh beh certo Devi provare a scappare Per avere un secondo tentativo Se no te non ti ammazza subito Ma che cazzo Cazzo C'è il medico laggiù Niente Sono veramente Clacciatori questi Sono bravi Eh no c'è il Sto buttato laggiù C'è il loro medico Sì è bravissimo No dietro di me È tornato subito Eh no Niente Ho ucciso la moglie di Federer Perché come si chiamava Per questo Vediamo che riesco Sperli un po' Che se sono più C'è Tocando nettamente meglio Proviamo così Non abbiamo vinta Uno non abbiamo vinta In questa Eh Ciò che in più a me Si dice Un cioccolato andasse in giro Ostentando Sfigurare il re Lui non poteva fare La figura del cioccolataio No quello lì sì Lo speravo In quella del peracottaro Tanto non ci vengono La zipline secondo me La cosa qui la metto Uno è già morto Non ci vengono Oh Non ci ho preso mai Ma come è possibile Usare la secondaria Saperla usare Sapere quale Quale personaggio Ha quale secondaria È importantissimo Perché se finisci Il caricatore principale Vai subito sulla secondaria Magari gli puoi dare la stit Non ci ho mai preso È proprio una cosa Che mi viene spontanea A me Proprio cambiare Andare nella secondaria Come su Rainbow Dima va Che abbiamo fatto Una figura del cazzo No quello di prende ancora Talon Che non è servito A un ciula La secondaria bisogna usarla Sempre Quando hai Cioè così Cioè almeno sapere Che secondaria Che poteri hai Quando ti potenzia la secondaria Poi trovo l'altro fucile Come c'è la carriera Forse era un nuovo Non ricordo L'orazio Grazie Giuseppe Grazie Giuseppe Sale e scende la marea Sandokan fa la diarrea Troppo Buon compleanno Mark Grazie Oggi sono particolarmente felice Domani rivedo la navia Dopo sei mesi di cacca Vi si vuole bene Meno male Meno male In Spagna In Spagna Magari in Spagna O magari l'ha detto così Tanto per Ti la tiro la granata Post it Putata giù Marco Copriti copriti Eh provo Sono un po' scoperto Sono qui Devo ricaricare la fava Eh c'è la cecena eh Dovevo svegliere un po' Prima Talonflame Dei migoglioni Eh no Eh quanta gente deve esserci Ma sono in più di noi loro Secondo me Non vale Buona Dai gli ha dato il colpo Di gracias È in Spagna Ed è spagnola Vedi Eccolo Lui tra l'altro C'è il mitrino Può sfruttarlo Dove va E quindi 30 secondi left Beh non può sfruttare Questo mitrino Ottimo Non l'ha colpito neanche una volta Non cambia neanche braccio Qua se cambiava braccio Appena usciva Era già pronto Col prefire Lo prendeva Tanto lo sapeva Che sarebbe uscito di lì E tra l'altro Ti è rimasto giusto Un angolino Che era quello Che gli serviva Nel prefire Per buttarlo giù Peccato C'è un'altra modalità Torniamo di là Ti torniamo a quell'altra Vuole tornare l'altra Va bene Mi dispiace comunque No 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 Sono divertenti tutte e due Preferisco Cioè Recaute Quella un po' più Easy Aspetta Canals No l'abbiamo fatto anche lì Semplicemente Ah si sono mistate Dovrei andare a urinare E riempirmi l'acqua Ma non lo farò Marco non puoi farlo Ah Io vi ricordo Amici del mattino Voi che siete qui A guardare questa live Impressionante Che oggi pomeriggio Alle 16 Quindi la live partirà 10 minuti prima Guarderemo insieme L'Unpacked Di Samsung Che presenterà I nuovi dispositivi Galaxy Note Mi raccomando Seguitela qui con noi Va bene? Yes Poi non ci pagano neanche Io lo guardo perché sono appassionato Però visto che qualcuno È anche No beh qualcuno lo pagano Qualcuno L'hanno anche Hanno fatto anche la collaborazione Samsung Io sono Appassionato di tecnologia Quindi Dai Quindi dai Rimani appassionato di tecnologia Ti dico Continua a supportare Rompi i coglioni Porca miseria Eh? Ah ti piace tanto Samsung? Ottimo Continua a supportarci Questo ti direbbero Secondo me Non ipotetica email Allora Voglio prendere qualcuno Di nuovo Prendo Cos'è questa favela Cosenza Favelas Media distanza Può andare bene anche Chuck Però prendo Scorch Voglio prendere Scorch Vediamo un po' Dove siamo nelle favelle? Sì Quindi c'è Media distanza Così così faccio il medico Con il Puoi provare l'altra Vedere se riesci a abituarti Magari a sparare Anche senza mirare sempre Ma in realtà qui Il mirino è vero Perché C'è un po' Di lunga distanza E che per me Se non sei il cecchino Quindi fai 80 di danno O se prendi in testa di più Andare a Perdere tempo per mirare Stai perdendo colpi Che puoi tirargli addosso E quello è il fatto Per quello tanti sparano Senza mirare Con l'arma Con la COG Comunque Non c'è la musica qui Qui And è preferito Non metterla Non c'è Non gli piaceva E' to silence Poi la cosa buona Della sua abilità Quanto durerà più o meno Poco Non penso duri tanto L'abilità di Scorch C'è la cosa bella di Scorch E' che comunque Se spari Per terra Nei pressi dell'angolo Comunque lui si incendia Non gli fai tanto danno Però Non è che fai Chissà quanto danno Piuttosto gli tiri L'incendiare C'è una mitraglietta Veramente veloce La mitraglietta è ottima Da vicino Forse è meglio Di quella di Chuck Si gira E' veloce Potrebbero arrivare Dalla zipline O da lì sopra O da lì sopra Ecco Mi hanno già Aserrato in due Ma sono veramente Pippaiolo Mi tira il lì Non mi pare C'era un botto Di esplosio Ma non posso Niente Ma che sbattimenti Ho sentito È successo Ragazzi Sono bravi Sono bravi Sparano molto bene Ciao sono finito io Beh Oh no Oh no Oh riprendiamoci ciò che è nostro Ragazzi 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 Oh Ma che ragazzi Sei nel E infatti siamo andati da un'altra parte Noi E li sei riandato in bocca Non Eh no Ma li ho buttati giù E quello il fatto È arrivato poi il terzo Che mi ha Eh c'è troppa gente adesso Qui Ah mi sparo Non era facile missare ogni colpo Io ce l'ho fatta Però gli ho dato fuoco ed è morto Bene Ma ti sei arreso subito Marco No No mi ha cosito lui Terra da rose da maretta Auri Marco ma dia che tutte le feste porta via Anche la mia porto via Pensa Da dietro ma che rottura di palle Quello la Eh no Non te l'ho detto perché pensavo te ne fossi accorto Eh no Era nascosto a camper L'avevo sentito che arrivava Ma ho detto che l'avrà sentito anche lui Che zeno chiede Laura Sono bravi Dopo il mezzogiorno ragazzi si fa caccare No ma sono comunque bravi loro È vero che con lei devo sfruttare molto il melee Grazie Otacon Devo sfruttare molto il melee perché Ha il braccio bionico Fai molto più male Forse dai anche fuoco ma non sono sicuro di sa cacata Dopo l'eco Non credo abbia una passiva che fa più danno col melee No Fa più danno l'eco il melee perché ha il braccio Proprio viene considerata un'arma il braccio Puoi potenziarla Ma sei sicuro Quanta gente c'è Sì sì Ci sono un sacco di persone qua dietro ragazzi Siamo ammazzati tutti Bravo È andato giù Ah tu sei questo Ho lanciato il drone Volevo tirarti su Grazie Ma forse hai fatto bene vedendo com'è andata Marco mi tiri su Patka Oh Patka No Ma sono tutti e quattro qui Sono Alla merda Sono tutti e quattro lì È andato giù Non vedo più una fava Ma non è andata giù Eh sono andato giù immediatamente adesso Marco C'ho un sacco di pene Sono per terra Arrivo Sono in tre qui comunque Eh lo so Quindi da lontano Da lontano con calma Topanga Non mi ricordo di Topanga Marco sicuramente si ricorderà di Topanga Solti Bravo Eh serve giusto a questo Quest'arma Uno giù è morto Arrivano da qua Marco non esagerare Gli ho dato fuoco ma non è servito a niente Ma non è possibile Vabbè servito forse sì Ok una l'ho buttata giù Oh la cecchina con un HP No non ci credo Ah è andato giù ok Dietro dietro mamma mia Mariachi Non altro lì in fondo Bastardo Ah dici anche i capelli Ci vorrebbe Marco secondo me Sì però adesso faccio cacara del tutto Vabbè appunto Fai 30 31 e 33 pure Abbiamo vinto Sopanga è una località di un video di GTA in cui Mark capiva scopanga Ah che storia Io ho queste cose come fate ricordarvele Che memoria Vedi che puoi aumentare anche il braccio Body damage Ok Ok Viene proprio considerato un perk da potenziare C'hai upgrade 1 che ti aumenta la lunghezza del melee E fai più danno col secondo Comunque in sta mappa sto fucile è ottimo Quello tuo sì L'avevo provato un'altra volta in live No non ero in live Però su Discord con gli altri lo stavo streamando Occhio eh Perché abbiamo Discord Punto esclamativo Discards Ma la cecchina è una pippona comunque ragazzi Adesso mi colpisce Adesso mi shotta Quindi evito Sto prendendo il punto Ho preso il punto credo Non lo so Sì ho preso il punto Ma questo era degli altri Non ho visto il nome La mia mira del cazzo Ah ma da in che senso il Jezer Jezer allora eh Facciamo scherzo La mia mira pelvica C'è uno che si muove tipo bot Con il Joypad Stanno tirando su uno ho sentito strappare sui pantaloni Ragazzi possiamo fare anche così vi ricordo io Sì possiamo aprire le portiere qua Che massacro del 5 aprile qui Questi non passano di qua Ma tirate su questa povera merda Sono giù Mi stanno triturando Tutti li sono Moro se riesci grazie Altrimenti va bene godiamo No sei cascato Ma Non è volato il mio cadamere Cosa ho visto Pastor Mamma Vieni a tirare su Ti tiro un incendiario No sono cascato per terra Aprile is the new Agosto Questo gioco è bello Soprattutto perché È snobbato dai pro player Ripeto Quindi Per ora Quindi possiamo vincere Cambia arma Jezer Puoi cambiarla eh Da per terra Puoi raccoglierla Eh devo andare a prenderla Però che è mezzo a loro Vai tranqui Vai tranqui Ma è che c'ho la digola Che figura di merda Che ho fatto ragazzi Ten uno lì Un quarto di vita l'ha perso È arrivata di fianco Debbini Ne vado Dominic Medic Dai venga guarda Niente ho fatto Lanciare il drone Cambia Arrivando di qui Ma maria Era lì Tedeschia Non ho più arti E' un'ottima equa da me Nezer vieni su Valà Questo è quello che faccio Povertà Troppo over Sieto come power Come la squadra di Vale Che si chiamano Poveri Lusi Ma siete power Io pensavo a power Giorgio Saluto Giorgio Quando vuoi Certo Ti insegniamo a giocare a rock company Vediamo che c'è un po' di difficoltà Ho dato fuoco alla loro cittadinanza Bravo La casa identità Bruciala Sopra 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 Giorgio Mi faccio il giro Di dietro Io Ragazzi Questa c'ha pochi HP Mi innervo Mi innervo Mi innervo Mi innervo Moro 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 Te la sto spottando Non posso più Non posso E' là dietro E' là in quello schiazzalino lì Con questo berino Non ho visto niente Però Dai vieni qui No ho dato fuoco Lezer tranquillo Non passi Troppi 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 Ho sciolto Vado via Vieni su Giorgio Ma è pirla Sei pirla Aiuto sono giù Sopra Eh sono giù Adesso per sempre Proprio No Marco Ti tiro su qui Me ne sbatto Che paura Moro Vado via La fregna Al posto Del ca Ti tiro su di dove Marco Ho più neanche il perk Ganchiamoli GANCHIAMOLI GANCHIAMO Questa canzone Tutti quanti che ha panza fuori Moro Ma che dice E' qui E' qui Mamma mia Com'è che esecuzione brutta Che gli abbiamo fatto Qui Rivocazioni incredibili C'è uno qui Non ci prendo Perché non miro Che cazzo di mira Ti ho avuto Ho mancato sempre Anche io No che stupido Che sono Sono due qui Ragazzi Ho esploso Non ho tirato niente Ti stavate Ti stavate Ti ho bruciato Bravo Lo tiro su Me ne sbatto Sono tutti qua dietro Ragazzi Ragazzi qui Ho bisogno di elto Mi sono riguardato Mi sono riguardato L'altro giorno Con la Cree La casa stregata Di Renato Pozzetto E l'altra volta Avevamo guardato Grandi magazzini E Pozzetto C'è sta cosa Ogni tanto che tipo Sulla casa stregata C'è un certo punto Si spaventa Di un'aquila Imbalsamata Aspetta Che miseria Da sotto arrivavano Si spaventa Dell'aquila imbalsamata E fa AQUILA E invece Su grandi magazzini C'era Questo Alano Che lo stava attaccando E fa A A Lano A Lano A Lano E io ti giuro Mi faceva troppo ridere Questa cazzata Quella semplicità Che però ti fa morire Si A Lano A Lano A me i fili I bozzetto piacciono un bozzetto Sono bellissimi ragazzi Ma lui Io l'adoro E lui ha Una verve Comica Che non si trova In tutti In tutti i personaggi E' un po' come De Luigi A volte mi fa ridere Anche quando non vuole In realtà Mi fa ridere Perché mi fa ridere Ma non Si ma smettila Non esistono i fantasmi Comunque adesso vado a fare la cacca No ma anche quando ha fatto Il discorso C'è il discorso Del lockdown Di Fabio De Luigi Io me lo sono riascoltato più Ma anche dopo il lockdown Mi fa morire da ridere E non dice niente di che Parla da Fabio De Luigi E mi fa ridere però Allegri In conferenza stampa Allegri Finisce le domande Poi gli dicono Non ci sono altre domande Ok Allegri gli fa Buonanotte E va via Ti giuro ho riso una settimana Ma Era un allenatore Che stava lasciando una conferenza Però il fatto che si metta così E dica Buonanotte È vero Corvo Ho fatto morire da ridere Corvo ha sgredito Pozzetto C'ha sempre la stessa faccia Più o meno Nei cosi Ma fa ridere per quello Perché Sta dicendo le cazzate Però c'ha sempre la faccia Fa sempre la faccia Da ingenuo Da Da coglione Dima Dima serve molto E porca miseria Che ridere Ora faccia finta Che sua madre sia morta No Lei sta bene Allora Prendo Ronin Posaccio Bello Tra l'altro I film di Pozzetto Ce l'abbiamo guardato su Youtube Che sono tutti ricaricati lì Non so neanche se sia legale Sono vecchi Però non penso sia Provo Scorch Dai Perché un po' tipo Grandi magazzini L'abbiamo guardato su Amazon Prime Video Che ci hanno messo un sacco di Di film loro Mark ridico un poco Ma vi giuro Fa morire quella scena lì Cioè Tutta sera la conferenza Ma perché proprio si alza Buonanotte E va via Era tutto sere Perché la partita Non ci sono più domande Ok Buonanotte E va via Poco in questo tono Buonanotte Con le mani così Si su Amazon Prime Ci sono quelli di villaggio Praticamente Tutti ormai li ha messi Più o meno E li sto guardando Perché Cazzo Sono la mia infanzia Tantissimo Sono bellissimi Io perché dovrei prendere L'EMP Se tanto i gadget li vedo Li distruggo col mitra Io non la prendo mai L'EMP L'EMP Li disattivi E l'EMP però Li disattivi Gli equipaggiamento Gli equipaggiamento È vero Però Tanto A parte che mi sa che lo In alcuni casi Mi sembra che lo puoi comunque usare No Non lo vedi Non lo vedi Non sai se ce l'hai carico o no Ma mi sa che lo puoi usare No no Non penso Non te lo fa proprio cliccare Fantozzi pure Ma Fantozzi già ha avuto qualche film Che no Pozzetto Non me ne ricordo uno brutto Però Magari non li ho visti neanche tutti Ecco adesso A scemo Oh Risolto Nel nulla Arrivano da dietro Secondo me adesso Arrivano Da di qua Bastio Ursi Non ci ho preso un pippo Bene? La memma La memma Pastipo Ma cosa fanno Fanno così Fanno oro Ragazzi sono adesso lì No qui? No c'è Ok No a me i Fantozzi Mi piacciono sempre Ma c'è uno fosso Foro Osteoporosi I grandi magazzini E' terribile ragazzi Come film Che super campanza aiuto C'è proprio un gang Poplio Non ci ho preso No ho preso un'arma da per terra Ma qui ragazzi Ma che peppo Chi è che pippa Cinelli pippa A subire Ci sono un sacco di persone ragazzi Vado a mangiare Aiuto ragazzi L'ho buttata giù Una L'altra no L'ho uccisa Ma non abbiamo il dottore Male No Io sono L'elettricità addosso Perché? C'è uno là Non ne hanno più in realtà Non ne hanno più in realtà Ancora Ok Allora Ok atterrito C'è gente tutta qua dietro Ahia sono giù Un po' triste Marco Sento l'elettricità statica negli oreggi Sono in due qua dietro Sono tutti due qua dietro Buonissima Oh scorsi ti hai usato a un modo che impari a capire quanto danno fa il fuoco eccetera Non è per niente male L'elettricista ma che hai detto Vector se capisci di merda Ma è Vector ancora? Ma è diventato un mattino Ma veramente guarda Già riprogrammarlo Scusami L'elettricità L'elettricità Quals'ho Quals'ho Ti prendo a Pizze Sì Vector Eh porca palestra guarda Via Niente Non è andato giù Non è andato giù Posti poppi Mi han tolto tutto Adesso è andato giù Adesso sono giù io No la bomba Pirla Postati un po' da qui Ostia Ostia un botto di gente Scappo E non va a poco Adesso si Guarda che pirla è caduto È andato sulla forza ed è caduto Io non ci credo Gliel'ho tirata davanti a lui Dove Pizzele è andata Trazer Travian Trippa È andata giù Mi minchiate Aiuto Questa arcade La spingo La spingo ragazzi La spingo Non la cureranno Non la cureranno Che dice Mi sono bloccato Così non riuscivo a curarla E ho preso la kill Ma se è uno qua La bella granatina incendiaria Vedi come torna a casa sua Alpirla Pastor Ma la smettono di fare i suoi giusti Coglioni di merda Ma poi non serve a granché No Per curiosità l'ho provata Quella tattica Serve per non prendere gli headshot Ma se io ti miro già da per terra C'è cd2 allo spawn Però non ho più la vita Scemo No 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 Sono giù Marco ti peppo eh Non puoi però Marco sei caduto Mi han perso tutte le vite Anche loro però Quindi siamo pari Ho tre contro tre Objetivo acquisito Defendente L'ansia è pelpabile Non ne andate in faccia Aspettiamo un attimo Ho preso la zipline No non è possibile ragazzi Non è possibile Eh era la di Ether 30 secondi C'è l'ho tolto tutto subito Poi con l'ultimo cazziglio di vita Mi ha ucciso Ma resisti 18 secondi Perdono la vita Sì Marco resisti Secondi Ti faccio il giro Non c'è che tempo Può arrivare anche Ok no è lì Ho controllo dell'objetivo Defendente Grazie Pia Grazie Pia Grazie mille Grazie mille Grazie 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 Io non so stasera cosa mangerò Tra l'altro Un menù a sorpresa Non so se vuoi dire un menù a sorpresa Perché mi cucinano Ah ok Questo E' un pisello Di bandit Siamo stati Allora In realtà abbiamo sbagliato Un sacco di robe Perché siamo andati in faccia Loro Li abbiamo gancati Quando non dovevamo gancarli Solo che sono stati Siamo stati più bravi A sparare Semplicemente Poste patate Buona Poste patate salsicce Ci sta ci sta La mangerei Nonna adesso Non la mangerei Fa caldo Ma farei buona Rimane comunque un alimento Che non mi fa schifo Comunque le patate le esce Con il prezzemolo E l'aglio Ragazzi Una è andato giù L'altra mi ha buttato giù E questo è qui Ma questo davvero Scusa Ecco perché sono morto Istantaneamente C'è qua 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 Lo vedo Ce lo spotto Ma non vedo Non capisco un cazzo Quello sta gancando Facendo il giro Dell'oca più lungo Della storia Dell'oca Stai fermo Quanto danno L'ho tirata giù Come ho fatto Aia Non capivo più un cazzo Male male C'è tutti e tre Nell'obiettivo sono Tutti e tre Sono quattro Quindi non sono tutti Però vabbè Ma non è andato giù come Sono anche morto Adesso sono andati via Ci biancheranno Eccola No Sto ricaricando Ma non è andato a schifo Da prima Tra la E che paura Cappola Sentex A me Non è la Cabeza No Lippi Lippi Maledetto Lippi Dato a fuoco Il Birla Ma non mi pare Ferri Dici Ma dietro 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 Nel punto Nella porta Del più Eh Aspetta Non solo Tirami su Tirami su Tirami su Arrivano tutti Da lì Sono tra lì Ostia Che esplosione Marco Hai visto? Ah perché Ah giusto Ok Intrusion detect La granata Ha il range più alto Ah lui ok Disattiva Praticamente fa l'imp C'ha l'imp Lui Si ha solo l'imp Ma io non rinasco Ce l'ha scritto Final life L'ha presa qualcun'altra Sono sciolata io mi sa No dai È rimasto con niente Che ne è uno nella finestra Chi è Dallas? Io Contro la finestra Che ticccia fuori Ma ho finito le vite anche loro Sì però loro sono sul punto Dai questo qui che fa zicche 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 zacc E qui comunque una Oh Gio Eh Ronin È il coltello di Ronin Che t'ha buttato giù mi sa Sì Non posso prendere il punto da morto? Sì in realtà sì Eh non me lo prendere Eh non Ma a parte che sei morto E hanno ucciso l'unico in piedi Quindi comunque non Ehm Ma quanto costa è gratis? Ma adesso c'è la closet beta Appena esce sarà gratis Esce intorno a fine agosto Dicevano 28 agosto Una roba del genere Dovrebbe uscire su tutte le piattaforme Tra l'altro Ma questa cosa controllatela Perché di questo non so sicuro Penso di sì Anche su Switch Credo E alla fine col pad Penso è molto comodo Un po' alla Modi Gears Più o meno Puoi andare come gameplay Poi se lo volete prendere adesso Costa 15 euro Mi pare la gente qua Siamo già aerei Buona Ma va Ha lasciato l'unico Aiaiaiaiaiaia Sono qua Eh sono Andato in mezzo Alla Cacca Ostia Bec Più o meno In realtà In realtà Penso che fate prima Iscrivervi alla beta Nel sito E Dove arriva Ma quanta gente di merda c'è Se la comprate su Kinguin Costa 70 centesimi in totale Si Su Kinguin vendono le chiavi Della beta Tipo a 30 centesimi Aiuto 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 Liezar Eh si ma c'è un sacco di gente Ecco Lo vedi A sinistra c'era il nostro A compagno è andato via Possiamo recuperare un po' di terreno Che stiamo Caccando troppo Porca Merkel Ricaricarmi la vita Ma non è possibile Che avevo entrambe le armi Da ricaricare Dietro 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 La seconda non l'ho usata Perché la dovevo ricaricare Scusami Non vedo più Nishu Aia sono a terra E anche qui E' un po' di terreno E' un po' di terreno 45 secondi Scusami 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 Aia Gli ho dato fuoco Portato Due a due Questa ce la portiamo proprio Ogni finale Questa qui Viste ancora G2 Non spammare altre cose Di alla concorrenza Tu Vec Dovete andare su Instant Gaming Che però non c'è lì No dovete andare Non c'è purtroppo Quindi non c'è Quindi niente A parte che hai detto Prima tu King King Quindi Scusami In realtà non si sa Vector Quella cosa lì Io non voglio A parte che non è vero Non si sa Non puoi fare queste azioni A quanto pare Tipo Luke Aveva trovato degli articoli Che Appunto avevano denunciato G2A Perché Aveva venduto Delle chiavi rubate E robe così Però poi In realtà G2A G2A Gli ha mandato tutte le prove Che non era vero E ha vinto la causa Esatto Quindi in realtà In realtà ha vinto la causa La causa G2A E E gli hanno chiesto anche scusa Non mi ricordo Per quello ti dico Meglio non dire Ma pure anche se è vero Vediamo Non va nel fuoco Non ci va Non va nel fuoco Dai non può fare la cacca di merda È andata nel fuoco Ma si è fatto un quarto di danno e basta Doveva buttarcisi dentro Scusami Che regole ci sono Vabbè sì Ora Allora Sento la palla Che mi avanza Non ha sparato Non ha sparato il mio Il mio culo Ma sono pippaiolo Va bene Non sapevo più dove guardare Porca miseria Non posso Ah no C'è uno qui dietro Un pezzo di merda Col cappuccio di lattice Con il testa di cazzo E quello era il più isolativo Allora Ma chi è Mi ha buttato giù Ma non è possibile Ho buttato giù uno con la granata Ma sono stronzo E non è abbastanza È rimasto Chuck Si gira E muore Va bene Si è ammazzato Ok Capisco Però va bene Era contro 9 Non importa Io non lo farei lo stesso Sì Era contro 9 Che cacchio Ci hanno sdrumato Ci hanno perso a parlare Di cazzate Vedi Ma abbiamo giocato bene Comunque sia Guarda che come kill L'ultimo round Abbiamo fatto caccare Abbiamo fatto le kill Che hanno fatto loro Più o meno Alla fine Che Sono anche tirati su Tanto loro Sono anche tirati su Dai Vabbè Amici Oggi pomeriggio Comunque Alle 16 Meno 10 Parto con la live Così alle 16 Guardiamo il Samsung Un packet Eh Va bene Vi va bene Se non vi va bene Non mi frega niente Io lo faccio lo stesso Perché voglio guardarlo Potrei guardarlo anche Per i gazzi miei Esatto Sennò stasera Con probabilmente Fall Guys Sì Se va Se va Che vuole giocare Tra l'altro Magari ci raccattiamo anche Due mod Che vuole giocare Chi c'è E così Fammi scappare Quitto il game Un saluto A tutti gli appassionati Di Waller Ciao Ciao Grazie Grazie ancora Ciao 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 Grazie.